Musica Lucia Iudicelli, segretaria dell'associazione Cuore Amico Noi abbiamo fatto questa associazione, stiamo costruendo questa associazione con lo scopo di combattere lo stigma Siamo persone che abbiamo avuto questo problema e vogliamo aiutare anche altri ragazzi, persone più grandi ad abbattere proprio questo problema perché si può superare facilmente con l'aiuto sia dei medici, degli psicologi degli psichiatri, degli assistenti sociali ma anche della famiglia A Lentini ci sono tanti casi? Ce ne sono tanti però perché sono trascurati e noi vogliamo fare emergere questo sia come ragazzi, sia come genitori, come famiglie Musica